Eva e Paolo hanno fondato una scuola di ballo che si chiama Gioia Latina. Eccoli qui, loro sono coloratissimi, la loro scuola fa divertire davvero tutti i grandi e piccoli. Ogni momento con loro diventa una gioia e adesso ce li gustiamo con la loro rueda, loro sono i Gioia Latina! Grazie! Siamo le più campeone della salsa, siamo le più migliori del sol, come io la mia te canta una guadracha, come io la mia te canta il coraggio. Oscar dice che io canto, San Bracito! Ben Chris me va un tesoro, Serena dice che io te canto. La strontà! No sono un cittadano universal, e Serena dice che sono un... E il perto contesto, Vitor dice che io te canto, e quindi mi canto. Siamo le più campeone della salsa, siamo le più migliori del sol, come io la mia te canta una guadracha, come io la mia te canta il coraggio. Siamo le più campeone della salsa, siamo le più migliori del sol, come io la mia te canta una guadracha, come io la mia te canta il coraggio. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti